Arrivano Lori, fai una foto col cellulare. Un schieramento di polizia, ecco la pioggia incalzante, sotto la pioggia incalzante. Un schieramento di polizia, ecco la pioggia incalzante, sotto la pioggia incalzante. Un schieramento di polizia 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 incalzante. Un frattentacolare. Ecco che si sente l'elicottero. Il riludio e l'annuncio dell'avvicinamento dei corridori, ecco i corridori di testa, i 4 corridori di testa. E' staccato, eh? Il riludio e il riludio e il riludio. Il riludio e il riludio. E' un ruolo in grado per− Il riludio e il riludio e il riludio e il riludio e il riludio. Il riludio di fedelo e il riludio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.